Stanotte i materassi sono tornati al loro posto. La tensione si è stemperata. Gli immigrati del centro di identificazione di Ponte Galleria alle porti di Roma hanno sospeso la protesta, arrivata nei giorni scorsi a punte estreme. Per dire che le condizioni all'interno dei C erano impossibili, peggio del carcere, erano arrivati a cucirsi la bocca. La notte di Natale 15 immigrati avevano dormito all'aperto, per terra, volti nelle coperte. Un'altra decina era in sciopero della fame. A convincerli a interrompere la protesta è stato Don Emanuele Parroco del CIE. Durante la messa di Natale ha rivolto un appello ad un gruppo di magrebini. Poi insieme hanno scritto un appello al Papa. Sospendiamo la protesta perché vediamo che si è creato un ascolto delle nostre richieste. Hanno scritto vogliamo però dei risultati. E ancora siamo venuti per fare una vita migliore abbiamo trovato solo sbarre. Santo Padre, siamo noi i nuovi poveri e non siamo carne da macello. Ieri nel CIE era entrata una delegazione di parlamentari di SEL. Hanno annunciato che oggi chiederanno al Presidente della Repubblica un intervento, un atto umanitario. Ma la tensione è stata alta ieri anche al CIE di Bari, dove un gruppo di tunisini e siriani ha lagato alcuni locali e ha dato fuoco a mobili e su pellettili. Oggetto della protesta alla qualità del cibo fornito nella struttura. La situazione è rientrata dopo che ai migranti è stato assicurato l'arrivo di cibo da un kebab locale. È semideserto, invece il centro di prima accoglienza di Lampedusa, svuotato dopo il video shock delle docce all'aperto antiscabbia e la protesta del deputato PD Khalid Chaochi che per tre giorni si è asserragliato con i migranti all'interno della struttura. Ora quasi tutti gli immigrati sono stati trasferiti tra Roma e Palermo. Rimangono 17 profughi assistiti dalla Croce Rossa. Sono testimoni di giustizia e devono essere sentiti nel corso di due incidenti probatori chiesti dalla procura di Agrigento che indaga sui neufragi del 3 e dell'11 ottobre.